buonasera a tutti in gran gala in cucina come vedete siamo nel forno nel forno cosa faremo facciamo la parmigiana di zucchine rivisitata con mostrare le pomodorini lattuga e basilico e parmigiano che volete di più per santo stefano questo e altro noi ci vediamo su instagram twitter linked tra un po facebook e youtube poi ci ritroverete che noi a nuovo anno faremo il blog di cucina gran gala in cucina vip aprite la vostra campanellina ed iscrivetevi non pentirete per le feste metteteci tanti like like fateci conoscere in ogni praticamente diciamo tito gruppo siamo se il gruppo di cucina e così anche se questa scena di santo stefano fate qualche verdurina con qualche gioco di profumo qualche gioco di colore fate mangiare anche i vostri piccolini io vi saluto vi auguro una buona serata un buon lunedì sera un buon santo stefano tutti ciao da gran gala in cucina